Al culmine di una furiosa lite con il compagno ha preso un coltello da cucina e lo ha gravemente ferito, un fatto di sangue che si è consumato alle prime luci dell'alba a San Giovanni Valdarno. Erano infatti le 5 di questa mattina quando tra i due conviventi si è acceso un violento litigio per futili motivi. La donna, una ventottenne operaia di origini rumene incensurata, al culmine di un diverbio si è recata in cucina e ha afferrato un coltello con una lama di 20 centimetri, poi si è rivolta verso il fidanzato e lo ha colpito con un fendente al costato. Il giovane è caduto a terra con una ferita lacero contusa perdendo molto sangue. E' quindi scattato l'allarme sul posto i sanitari del 118 che hanno prestato le cure al 31enne e i carabinieri di San Giovanni Valdarno che dopo aver sequestrato l'arma hanno arrestato la donna sottoponendola su disposizione dell'autorità giudiziaria alla misura dei domiciliari presso la propria abitazione. L'uomo invece è stato trasportato all'ospedale della gruccia di Montevarchi dove dopo un'operazione d'urgenza si trova in prognosi riservata. Le sue condizioni sono state giudicate guaribili in 25 giorni.